...e' una ventola... Vai! 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 Ora fai una picchiata e vedete se è una scelta. E' un attento proprio a prato. Tutto è? E' un attento proprio a prato. È il carrello davanti che è un po' lungo. Levo l'attelaggio? No, prova a fare una salita che vediamo come va in salita. Sì, ma ne ha di potenza eh? Adesso prova a fare un looping allora. Lo picchi un po' e poi dopo... Sì, ma... Guarda che sto cabrando tutto eh! Ha poco comando di cabra picchia? Un po' di cabra. La potenza c'è. Il tuo nuovo non lo provo eh. Non vorrei che sia troppo sensibile. Tu vuoi provare a fare un atterraggio? Perfetto, però forse lo provi. E' un attimo è fizzolato. Ehem! E' un attimo è fizzolato. E' un attimo è che fanno Sedolato. Perfetto, è benissimo. Voi vedi da me freddo. Sì, è vero è questo. vai quando vuoi oh 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 provo a fare un passaggio basso un altro a fare un passaggio basso provo a fare un looping non no ma è un rovescio anche lo stiene bene? no 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 vai pure quando vuoi no 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 Grazie a tutti